L'ultima tappa di Polietica la chiudiamo a Campobasso con un personaggio straordinario a livello mondiale. È stata un'estate all'insegna del tutto esaurito, ce lo possiamo dire con grande orgoglio. Abbiamo portato Polietica sul territorio con sei tappe importanti che vanno da Agnone a Valino, a Rocca di Varga, a Bracotta, a Sedino e poi a Campobasso proprio perché siamo convinti delle bellezze e della validità della regione su tutto il territorio regionale. Per cui noi vogliamo uscire dai palazzi della politica, dai palazzi cosiddetti del potere per andare sul territorio perché la gente deve conoscere un turismo emozionale che lo si può conoscere e vivere solo vivendo il territorio.